Questa mattina seduta straordinaria della Commissione Vigilanza con due importanti argomenti all'ordine del giorno. La situazione del Consorzio di Bonifica Sud con l'intervento tra gli altri dell'assessore regionale Imprudente e la questione del registro tumori in Abruzzo. Il Presidente della Commissione Vigilanza, Pietro Smargiassi, fa il punto su quanto ha preso in merito alle problematiche dei consorsi abruzzesi. Alcune questioni erano legate ad alcune delibere che il Commissario del Consorzio di Bonifica Sud ha assunto in merito a degli incarichi e a dei contenziosi. Sono stati chiariti in Commissione, il punto era stato sollevato dal Commissario Damario. Su alcuni abbiamo avuto chiarimenti, su altri approfondiremo attraverso un accesso agli atti. In particolare c'è una delibera che non ci convince su un incarico a un libro professionista che pare abbia rinunciato ad una quota che il Consorzio ha un credito che aveva nei confronti del Consorzio. Approfondiremo un po' meglio perché la risposta non ci ha convinto. Per quanto riguarda l'intervento dell'assessore Imprudente, anche lì ci ha dato un po' delle linee programmatiche di cosa sarà nel futuro il Consorzio di Bonifica e i Consorzi di Bonifica in generale. Pare che ci sia una rivisitazione della formazione e di come funzionano e come dovranno funzionare questi Consorsi. Quello che non ci ha convinto affatto è che le elezioni per il CDA e per la guida dei Consorsi viene ancora una volta rimandata a data da destinarsi, non si sa bene quale, in attesa comunque che con una legge ci sia una riforma anche dei Consorsi. Io non sono ottimista, ricordo la storia della riforma dei Consorsi industriali, strutture molto simili a quelle agrarie. Beh, lì si è trattato in un fallimento, lo dicono i numeri, lo dicono i fatti. Non sono convinto che ricrearli da capo possa avere un successo sicuro, anzi abbiamo prove contrarie. Una cosa è certa, ci va messo a mano, i debiti che hanno i Consorsi agrari sono incredibili, i numeri che fanno paura e purtroppo troppo spesso vengono ridivisi tra i Consorsiati. Questa è una pratica che va interrotta assolutamente. Alfonso Mascitelli, direttore dell'azienda sanitaria regionale, e Lamberto Manzoli, responsabile scientifico del registro tumori, hanno spiegato in commissione come sta procedendo il lavoro di compilazione del registro e quali sono le difficoltà. Ci hanno spiegato quali sono le difficoltà e perché i tempi sono così lunghi, perché i registri tumori sono fermi, per esempio quella abruzzese dal 2016. La regione Abruzzo è una delle regioni che è più avanti a tutte le altre regioni, stranamente, ma siamo più avanti a tutti. I tempi però sono complicati, sono complicati dall'iscrizione alla IRTUM, che richiede una marea di dati e di approfondimenti. Questo fa sì che tutto sia più lento. Una cosa è certa, si potrebbe fare sicuramente molto meglio, ma servono maggiori fondi da destinare all'agenzia regionale, magari solo dedicandoli al registro tumori, serve maggiore personale specializzato, professionisti e ricercatori. Quello è uno strumento fondamentale per la salute e la vita dei cittadini abruzzesi. Noi siamo sicuramente tra chi l'ha fatto per prima la richiesta, presentando un progetto di legge già nella scorsa legislatura, e siamo fieri di poter dire che il ministro Grillo è stata la prima, il primo governo che ha preteso dalle regioni il registro tumori.